Siamo una scuola giovane, sicuramente c'è molto da lavorare, però i propositi sono buoni e secondo me si possono fare buoni risultati. Il coach è uno che ci fa lavorare bene e siamo comunque tutti predisposti per seguirlo. Non sarà facile perché il girone A è un girone molto difficile, con squadre veramente ben organizzate, però noi siamo qui con la nostra voglia di fare e nessuno ci metterà i piedi in testa, soprattutto qui al palazzetto.